Si candida come uno degli eventi più interessanti ed attesi della nostra provincia ed il conto alla rovescia è ormai cominciato. Dal 12 al 15 ottobre Messina ospiterà Messina Street Food Fest, un vero e proprio evento culinario, alla riscoperta dei gusti e dei sapori che storicamente contraddistinguono la nostra terra. La manifestazione è stata presentata alla sede della Confesercenti e da fare gli onori di casa il presa di dente di Confesercenti Messina, Alberto Palella. L'amministrazione nasce per far rivivere un po' il centro della città che è normalmente rappresentato il cuore economico, che in questo momento è molto in declino e quindi abbiamo avuto quest'idea di ripartire dal centro per far cercare di dare una spinta alla città dal punto di vista commerciale. La proposta è stata fatta all'amministrazione comunale che ha sposato subito il progetto e in modo tale che siamo entrati nel vivo dell'organizzazione. Per fare questo evento mi sto avvalendo di tutti, secondo me, il meglio che c'è sulla piazza dal punto di vista organizzativo e ognuno di loro ha la sua peculiarità, il suo background proprio professionale in materia di eventi. La scelta della location non è assolutamente casuale, sarà infatti la centralissima piazza Cairoli a ricoprirsi di luce nuova per quattro giorni all'insegna del gusto, delle tradizioni, delle dimostrazioni di cucina da parte di importanti chef. Le pietanze di strada regneranno per quattro giorni in un percorso costruito ad arte per accompagnare gli ospiti nelle trenta proposte di specialità diverse di ognuno degli stand presenti.